SAO Servizi Aziendali Operativi L'azienda è il partner affidabile per aziende e denti pubblici che desiderano rendere più efficace la propria organizzazione interna. Propone servizi di front office e facile management, finalizzati al miglioramento dei rapporti che l'azienda stringe con altre imprese. Offre servizi di ricezione clienti, portierato, guardiania, custodia non armata, ricapito corrispondenza, fattorinaggio e trasporto. Inoltre, organizzazione e gestione di eventi, manifestazioni, conferenze e meeting.